Povera patria schiacciata dagli abusi del potere di gente infame che non sa cos'è il pudore si credono potenti e gli va bene quello che fanno è tutto gli appartienti tra i governanti quanti perfetti e inutili buffoni questo paese è devastato dal dolore ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore non cambierà non cambierà non cambierà forse cambierà grazie grazie